bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video dove ci troviamo nel mondo di absolver è un gioco gratuito che trovate adesso gratis col psn col playstation plus ed è un gioco che avevo già addocchiato da tempo perché è veramente particolare non posso dirvi effettivamente che sia un picchiaduro online o un mmo o un simulatore di arti marziali non posso dirvi niente di questo quello che posso dirvi però è che già dalle prime diciamo sessioni di gioco quindi per esempio da questo menu dove si personalizza il proprio personaggio e si sceglie lo stile di combattimento quindi stile che va più sulla parata e l'assorbimento del danno stile che va più sulla schivata dipende ragazzi ci sono degli stili da scegliere all'inizio ed è una cosa veramente bella anche questa perché comunque devo dire che già la partenza nella fase di preparazione è veramente molto interessante e anche questa parte qui nel video iniziale dove veniamo scelti per partecipare a questa avventura ora bisogna capire di che cosa si tratta però perché come potete vedere è tutto legato a questa maschera ma che cos'è absolver si giocherà nel mondo di adal è un impero ed è un'unica grande mappa divisa in due zone quindi diciamo che non è vastissimo il mondo di gioco però è una parte diciamo con più case quella iniziale con più villaggi case strutture mentre poi c'è una parte un po più selvaggia dove ci sono appunto più zone verdi e meno strutture diciamo che il gioco è sostanzialmente una sorta di combattimento online ma con un po di gdr gdr anche nella evoluzione del personaggio nella crescita del personaggio perché adesso in queste prime fasi lo vedete così piano piano adesso anche nel video cercherò di farvi vedere un po di evoluzione è quello che succede durante appunto l'avventura dove io parto ovviamente alla cieca e inizio a percorrere questo mondo che effettivamente non mi sarei mai aspettato così bello così interessante più che altro perché arrivati in questa zona mi metto a guardare lì in fondo dico porca miseria ci vorrei arrivare lì ma ci vorrà tantissimo per arrivare a quella struttura lì in fondo e inizio realmente a guardarmi intorno a capire ci arriverò cosa devo fare per arrivarci e scatto ragazzi faccio uno scatto per dire porca miseria ci voglio arrivare dopo aver passato un po di di case appunto distrutte trovo questo portale che deve essere il primo step perché vedete mi dice di prima battere un silien che cos'è non lo sappiamo iniziano le manate come potete vedere comunque il sistema è abbastanza complicato ma allo stesso tempo semplice dopo averlo capito tenendo premuto r2 ci si mette praticamente in varie posizioni mentre poi ci sono una serie di mosse a catena da imparare abbastanza facili c'è anche la possibilità di parare ma io ho scelto diciamo le arti del vento quindi la possibilità di schivare e con la r l'analogico di destra riesco a schivare alcuni colpi una volta aumentato di livello come potete vedere posso aumentare gli attributi forza vitalità stamina quello che volete che possono assolutamente aiutarvi durante la battaglia non solo ragazzi troveremo altri vestiti che tante volte ci aiuteranno magari avendo un'ottima difesa ma aumentando il peso del nostro personaggio vi faccio vedere vedete c'è una nuova maschera ma una volta arrivati sopra la nuova maschera come potete vedere c'è un peso di 2,2 quindi vuol dire che da uno passiamo a 2,2 questo mi rallenterà o magari mi darà meno forza perché sarà impiegata anche per reggere il peso mi darà meno velocità perché il peso mi dà della lentezza però al fattore estetico io di solito non guardo e mettere questi vestiti mi è piaciuto veramente tantissimo vedere che già nei primi minuti di gioco riesco già a personalizzare un po il mio personaggio ed è veramente fighissima questa cosa ragazzi ovvio che non è finita qui perché una volta superata quella porta incontro un altro personaggio che mi dice che meditando posso assolutamente decidere io il set di combo cosa cioè io posso decidere il set di combo e ogni volta che andrò avanti di livello e sbloccherò armature livelli capacità potrò anche imparare nuove mosse in più più avanti nel gioco ci sarà anche la possibilità di avere delle armi katana ascia dipenderà da tantissime cose adesso sinceramente non sono andato molto avanti nel gioco volevo farvi vedere questa prima parte per non spolerarvela in modo che potete giocare tranquillamente anche voi però è veramente molto bella questa cosa perché più avanti si va e più il personaggio cresce una crescita devastante imparerà nuove mosse imparerà padroneggiare delle armi ci saranno dei boss in più come vi dicevo e anche online cosa vuol dire che anche online che potremo trovare in giro per queste mappe altre persone come noi che stanno giocando che stanno facendo la nostra stessa cosa stanno girando poi ovvio che si potrà scegliere la modalità secondo me una volta superato appunto il primo step di tutorial e il primo boss si potranno scegliere tante cose però qui incontro il silan è lo step che bisogna superare per aprire quella porta inizio un combattimento un po piuttosto il silan infatti ce lo dimostra con un bel paio di mazzate e un po di mosse che non mi sarei aspettato diciamo che si può veramente imparare molto durante i combattimenti perché inizia a capire quando schivare come se saltare o abbassarti o persino schivare di lato queste sono appunto le abilità del dello stile di combattimento che ho scelto io attenzione perché gli altri stili non avevano la possibilità di saltare abbassarsi per schivare sono stili completamente diversi il sistema è assolutamente da padroneggiare quindi è inutile andare a caso in questo gioco se andiamo a caso verremo sconfitti nella maggior parte dei casi quindi attenzione perché absolver offre diverse modalità può essere giocato in modalità cooperativa quindi in pwe con i nostri amici ma attenzione perché sia tra i nemici e sia tra di noi ci può comunque essere del combattimento quindi detto in parole povere c'è il fuoco amico se troviamo anche un altro giocatore online e decidiamo di andare avanti nell'avventura insieme ma tutto un tratto poi lui si ribella e mi colpisce e beh sì si dice che praticamente ancora il gioco abbia dei piccoli problemi di lag nella modalità online ma credo che tanti giochi abbiano di questi problemi anche se appunto tanti si sono lamentati di questo lag all'interno del gioco ecco qui che superato il portone incontriamo questa prima persona amichevole che ci parla e ci dice appunto che durante la meditazione posso completamente modificare il moveset del mio personaggio a mio piacimento più avanti andrò nella storia e più sbloccherò mosse come vi dicevo anche armi più avanti una cosa che ho trovato veramente pallosa sono i combattimenti contro più avversari perché come vi dicevo tenendo premuto r2 si può cambiare la posizione del nostro personaggio quindi tante volte quando si combatte contro due ci ritroviamo girati di schiene dobbiamo decidere noi di girare il personaggio perché sennò un po un casino vedete qua sono contro tre guardate bene la situazione adesso qua mi è andata abbastanza di fortuna vedete che sono girato non la possibilità di girarmi direttamente verso di lui se voi notate tante volte sono messo lateralmente in una situazione che devo sistemare io vedete anche qua guardate ora lo sistemo sono io che ho girato il personaggio non si gira automaticamente tenendo premuto r2 come potete vedere in basso sotto la barra della stamina giro il personaggio guardate ancora ancora mi sono ritrovato di spalle quindi quando si appunto combatte contro più nemici lì va ancora più in difficoltà il nostro personaggio girarsi è un po un casino anche se poi quando si padroneggia il sistema di gioco vengono fuori dei combattimenti veramente spettacolari una volta superata questa prima zona ragazzi eccoci qui ci stiamo avvicinando sempre di più a quella struttura eccola qua finalmente qui credo che ci sia una parte un po più incasinata perché avendo tutte queste abitazioni mi aspetto anche tantissimi nemici e credo che all'interno ci sarà anche un boss però non voglio andare avanti per adesso voglio sapere la vostra opinione su questo gioco si dimostra veramente un gioco profondo un po un misto tra dark souls e forse ragazzi anche qualcosa di for honor per quanto riguarda il sistema di combattimento quindi dark souls e for honor secondo me può venire fuori un bel misto se vi piace questo gioco se volete magari e provarlo psn gratuito col playstation plus di questo mese date un'occhiata perché secondo me vi divertirete un casino grazie per aver seguito lasciate un commento vi ricordo anche un bel like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e davvero fatemi sapere la vostra opinione su questo gioco e se volete saperne di più scrivetemi pure nei commenti che cercherò di rispondervi con i vostri dubbi e le vostre domande grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video bella